tipo per noi è un modello molto importante ha venduto più di 700 mila unità dal lancio nel 2016 leader in italia ma porta più del 75 per cento dei suoi volumi fuori dal mercato domestico quindi un intervento importante in cui abbiamo voluto combinare un intervento di stile sia negli interni che negli esterni molto bello il frontale con il luogo logo fiat c'è un importante upgrade di tecnologia con la nuova radio uconnect 5 il nuovo tft 7 pollici completamente personalizzabile il bellissimo touchscreen più di 10 pollici al centro della plancia in più un completo set di adas per la sicurezza di guida di serie su tutte le tipo infine anche nuovi motori con il nuovo firefly turbo tre cilindri benzina e i due nuovi diesel da 95 e 130 cavalli tutti i motori che sono attenti ai consumi e alle emissioni ma molto brillanti da guidare nuovo stile nuova tecnologia e nuovi motori ma anche un po di in più da oggi infatti la tipo non è più solo quattro porte cinque porte station wagon ma è anche cross è più alta 7 centimetri è più alta da terra di quasi 4 centimetri è più solida e muscolosa è un vero crossover anzi direi che è un vero family crossover un po la tipo che non c'era abbiamo approfittato del rinnovamento della tipo per rinnovare completamente anche la gamma di panda con la nuova life molto bello interessante il frontale con il nuovo bumper la nuova sport completamente nuova e anche un una nuova cross molto interessante l'intervento negli interni in particolare con la nuova radio con il touch screen a 7 pollici con carplay android auto che permette di utilizzare un po tutte le app del di chi guida in perfetta sicurezza sempre mani sul volante grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.